Il Presidente del Veneto Zaia non ha dubbi su come risolvere la crisi di governo, si va dal voto subito. La segnalazione di un telespettatore che ci mostra come la centrale Via Terosi sia completamente abbandonata. Per la consigliera Lucia Fincati i conti delle case di riposo non tornano, dice chiederò chiarimenti. Altri capi di bestiame sbranati dal lupo a Enego e Asiago, intanto la regione regala lettere elettrificate. Ha tirato dal prezzo vantaggioso di un'ADMV online per 5.800 euro, ma è una truffa. Tg Bassano, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi in apertura. Ci occupiamo della questione calda della crisi di governo. Hanno intervenuto anche il Presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha dichiarato si vada subito al voto. Se si fa un governicchio sarebbe veramente tragica. Tragica perché ci sono i numeri per garantire al Paese un governo stabile. È una crisi di cui è difficile prevedere gli sviluppi, quella del governo Conte, in un quadro politico diviso tra chi chiede l'immediato ritorno alle urne, come Fratelli d'Italia, e soprattutto la Lega, che sta sondando la disponibilità di Forza Italia in vista delle elezioni e chi preferirebbe un governo di scopo. Il Movimento 5 Stelle, tramite Peppe Grillo, sonda la disponibilità di un partito democratico che con Zingaretti declina l'invito, ma le cui divisioni interne paiono oramai mature per la scissione dei Renziani, che confluirebbero in un nuovo soggetto politico di cui sarebbe già pronto anche il nome, Azione Civile. Lo sviluppo della crisi appare incerto anche come tempistiche. Sul piatto c'è la votazione in aula della mozione di sfiducia presentata dalla Lega al Premier Conte. Io ho massima fiducia nel Presidente Mattarella, è lui poi garante della Costituzione, però è pur vero che se si va subito al voto, ed è esattamente quello che io penso, che chiediamo, riusciamo ad avere il nuovo governo alla volta di fine ottobre e prima di novembre. Ed è questo l'obiettivo. Trascinare questa agonia con governicchi e soluzioni roccambolesche vorrebbe dire semplicemente non dare all'Italia un governo stabile, solido e che fa le cose. L'incertezza che viceversa ha caratterizzato l'azione di questo governo ha avuto secondo Zaia più di una ripercussione in Veneto. Non posso non rilevare come governatore del Veneto che ci hanno lasciati soli sulla Pedemontana, se oggi è sbloccata grazie a noi, che ci hanno lasciati soli sulla TAV. Queste sono due opere, TAV e Pedemontana, che i veneti vogliono. Non serve neanche fare un referendum. Ci hanno lasciati letteralmente soli sulle Olimpiadi. Vi ricordo la posizione dei 5 Stelle sulle Olimpiadi. Non vi dico dell'autonomia perché sotto gli occhi di tutti quanto freno a mano si sia tirato e tutto il resto. E crisi anche sulle nostre montagne, dopo le ennesime predazioni dei lupi. E intanto la gente che vive e lavora sulle nostre montagne, sull'altopiano, nello specifico, è davvero esasperata. Nuove predazioni dei lupi, ormai si è perso il conto delle bestie uccise sull'altopiano, ennesima mucca sbranata, siamo in comune di Asiago, l'assalto nella notte e questo, vedete, è quello che resta del povero animale. Sempre la scorsa notte un altro vitello, guardate che roba, qui a Valmarone, in comune di Enego. E tra l'altro l'allevatore alle 4 di notte si è trovato davanti un branco di 5 lupi che è riuscito a scacciare, ma ormai era troppo tardi. Avevano già ucciso il bovino. Una strage che sta mettendo in ginocchio chi vive e lavora in montagna. Una decina di giorni fa, lo ricorderete, un intero greggio di pecore esterminato dal lupo che ha ucciso 30 animali, oltre ai 15 che sono stati abbattuti in un secondo momento perché ridotti allo stremo. Intanto, martedì mattina, in municipio ad Asiago, è previsto un incontro tra pastori, allevatori e malghesi dell'altopiano per cercare di far fronte comune alla drammatica situazione della nostra montagna. E continuando a parlare di lupi, è intervenuta, sta intervenendo in maniera forte adesso anche la Regione Veneto. Ha stanziato 200 mila euro per indennizzare gli allevatori che sono stati colpiti dal predatore. E 160 mila euro invece che saranno utilizzati per mettere in atto, per acquistare tutti quanti quei sistemi di prevenzione a cominciare dai recinti elettrificati che sta già cominciando a installare. All'emergenza lupi, la Regione ieri è risposto installando 600 metri lineari di recinzione, 2.400 metri di filo elettrificato. Sono stati i tecnici regionali, assieme ai volontari della sezione Grandi Carnivori del CAI Veneto, ad intervenire a Malga Cavallo, in località Mercesina, in altopiano. Proprio quella Malga dove nella notte del 31 luglio scorso il branco di predatori aveva fatto strage di 43 pecore dell'azienda di Dennis Cortese, il quale si era difeso con un'adeguata recinzione mobile fornita in comodato d'uso gratuito della Regione Veneta, ma che non rispettava i parametri minimi di elettrificazione. All'indomani, nel corso del sopralluogo tecnico per accertare l'entità del danno responsabile dell'unità della Regione Veneto, aveva consigliato all'allevatore di installare una recinzione semipermanente nei pressi della Malga con almeno quattro ordini di filo, offrendo gratuitamente materiale, supporto tecnico e logistico. Ed eccoci alla fornitura di ieri di reti, pali in vetro, resina, filo elettrificato, elettrificatore con pannello solare e tutti gli accessori incomodato d'uso gratuito fino al termine della stagione di monticazione. L'allevatore invece si è procurato la batteria, ha messo a disposizione i pali di legno già presenti in loco e l'attrezzatura necessaria. All'interno di questo perimetro l'allevatore andrà a stabulare le pecore durante la notte che a loro volta saranno rinchiuse in un recinto mobile. Ci sarà quindi un doppio recinto per evitare non solo che i lupi si avvicinino pericolosamente alle pecore ma anche l'effetto trappola che uno spazio chiuso può ingegnare in un gruppo impaurito dalla presenza del lupo. Di fronte alla minaccia arrecata dal lupo, le attività di pascolo e di allevamento all'aperto, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura PAN, la regione sta assicurando non solo il piano indiannezzo dei capi vittima delle predazioni, ma soprattutto pronta assistenza ad allevatori e pastori. Sono 700, lo ricordiamo, le malghe presenti nel territorio regionale e a tutte si sta provvedendo a installare protezioni idonee e aiutare gli allevatori ad adottare tutte le strategie di prevenzione. Dall'alto piano scendiamo a Bassano del Grappa. La consigliera comunale di impegno per Bassano, fresca di nomina alla quarta commissione servizi alla persona, si sta facendo un po' il quadro della situazione per capire come dovrà muoversi, per seguire tutte le varie questioni che la interesseranno. Però scartabellando tra i documenti delle case di riposo bassanesi sono emersi alcuni punti su cui lei intende chiedere chiarimenti. Ci sono aumenti considerevoli di stipendi, di premi accessori a beneficio della dirigenza e di alcune figure con responsabilità apicali. Io chiederò chiarimenti perché non si capisce perché da una parte ci sono questi notevoli premi e dall'altra ci sono dei dipendenti che lavorano con impegno quotidiano tutti i giorni che vivono questo clima di incertezza. Quindi questo sarà mia cura. Così guardando tra documenti e carte, la consigliera comunale di impegno per Bassano, Lucia Fincato, nuova di nomina alla quarta commissione servizi alla persona, ha trovato una serie di delibere che riguardano la dirigenza delle case di riposo bassanesi. E le sono balzate all'occhio alcune voci su cui intende andare a fondo chiedendo spiegazioni proprio ai diretti interessati. Quello che non si spiega è come mai tra l'altro il Comune non sia stato informato di queste manovre. Sarebbe bene che cose così impattanti, tipo anche la revisione dell'organigramma generale di tutto il personale, magari fosse condiviso con la commissione, con l'apposita commissione consigliare, con l'assessore sociale, con tutte le forze in campo insomma. Sarebbe buona cosa che le decisioni, ribadisco, le decisioni che impattano per i prossimi anni e che vincolano questa, l'attuale amministrazione, non fossero così vincolanti per il prossimo triennio, altrimenti veramente ci si trova a mani legate, si può dire questo. Perché, ribadisce Fincato, quello su cui bisogna concentrarsi oggi è solo il bene degli anziani, 397 persone, la maggior parte dei quali non autosufficienti. Le famiglie hanno una enorme difficoltà anche nel supportare e pagare le rette, quindi non si possono aumentare le rette e aumentare contemporaneamente dei premi anche alla dirigenza. Come dire, se dobbiamo stringere la cinghia, la dobbiamo stringere tutti, non la devono stringere solo alcuni. Ecco, io chiederò chiarimenti, questa non è, non vuole essere un'accusa certamente, però è un atto doveroso, doveroso nei confronti delle famiglie, nei confronti degli operatori, nei confronti soprattutto dei nostri anziani. Adesso per la nostra rubrica, io chiamo Rete Veneta, le segnalazioni di alcuni nostri telespettatori che ci hanno portato in via Perosi a Bassano. Vediamo un po'. Questa volta per la rubrica, io chiamo Rete Veneta, è la via Perosi, zona centro studi ad essere sotto la lente di ingrandimento, ma a onor del vero non ci vuole proprio una lente così potente per vedere quanto segnalato da un telespettatore di Rete Veneta che ci scrive invitandoci ad andare a vedere, dicendo che la via necessita da molto, troppo tempo di un'asfaltatura uniforme. va rifatto il marciapiedi, ci scrive, che risulta essere pericoloso, con diverse irregolarità, facile inciampo per bimbi e anziani. La penultima amministrazione, ci scrive, ha badato bene di asfaltare fino a via del tesoro che stranamente, scrive sempre il telespettatore, conduceva a qualche abitazione e o studio privato di ex amministratori, dimenticandosi di proseguire con l'asfaltatura a questa zona che presenta anche un parchetto con asfalto pedonale pieno di crepe e buche. Un altro telespettatore, sempre per via Perosi, ci dice proprio oggi che regna l'incuria in quella che sarebbe una zona carina, erbace alte, allagamento in caso di piogge e cani di grossa taglia lasciati spesso liberi senza museruola. Insomma, anche per il caso di via Perosi, Rete Veneta farà la sua parte, contatterà la pubblica amministrazione per capire se finalmente quella zona residenziale possa mostrare al visitatore un biglietto da visita migliore. A proposito, ricordiamo il nostro Tg Linea Aperta, le richieste al vostro sindaco, inviateci un whatsapp al numero che ormai ben conoscete che state vedendo o un'email in cui ci segnalate cosa volete chiedere al sindaco, cosa volete denunciare anche che non va al sindaco e noi andremo e ci occuperemo delle questioni, cercheremo di arrivare ad una soluzione. Adesso andiamo a Borso del Grappa, dove a Campocroce si è svolta una gara di pesca con protagonisti giovani disabili. La società di pesca ha organizzato la giornata di avvio alla pesca per i ragazzi e ragazzi diversamente abili. La giornata è trascorsa tranquillamente e di un'allegria. Sono stati premiati tutti i partecipanti. Obiettivo è divertirsi e così è stato per i tanti ragazzi disabili che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla società pescatori sportivi Andolfatto. Armati di canna, appositi ami senza ardiglione per non ferire le bestiole ed esche si sono cimentati in una gara all'ultimo pesce rosso dando prova di grande forza di volontà e spirito competitivo con un'attenzione particolare anche agli stessi animali che una volta pescati e conteggiati venivano ributtati in acqua. Appuntamento allo stagno di Campocroce a Borso dove i protagonisti sono stati questi speciali pescatori accompagnati dai genitori che hanno vissuto un'esperienza unica all'aria aperta in un clima di totale serenità portando a casa, come ricordo, un attestato di partecipazione e soprattutto la soddisfazione di un nuovo traguardo raggiunto e di una nuova esperienza vissuta in compagnia. Andiamo a Enego dove è attivo il centro di raccolta mobile il 17 e il 31 agosto. Enego alvia un nuovo servizio proposto dall'amministrazione comunale in collaborazione con Etra per agevolare gli utenti nel periodo estivo quando si aprono le seconde case. Nel mese di agosto, per due sabati, sarà a disposizione degli utenti domestici, residenti e non residenti iscritti al servizio rifiuti, il centro temporaneo di raccolta mobile per i rifiuti ingombranti e quelli elettronici categorie di materiali non conferibili nei contenitori stradali. Il centro sarà aperto in via Colonna e lo fincato nel parcheggio della scuola primaria il sabato 17 e 31 agosto dalle 8 alle 11. L'accesso è consentito esclusivamente alle utenze domestiche e è necessario presentarsi muniti di copia dell'ultima bolletta. Incidente stradale a Roana, un'auto esce di strada, si schianta contro un muretto e restano ferite due persone. Roana, auto esce di strada e si schianta contro un muretto di recinzione, feriti il conducente, un 19enne del posto e un amico di 17 anni. I due stavano percorrendo via Belvedere a Canove, quando poco prima di un bivio il giovane al volante ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il mure sfondando una cassetta del gas metano. Distrutta la macchina, i due sono rimasti incastrati nell'abitacolo e sono stati estratti dai vigili del fuoco di Asiago. Tra i primi a dare soccorso una pattuglia della Guardia di Finanza che stava effettuando controlli proprio vicino al luogo del sinistro. Gli uomini delle fiamme gialle hanno regolato il traffico in attesa dei carabinieri per i rilievi e dell'ambulanza. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Orso, ricoverati uno in chirurgia per lesioni interne, l'altro in ortopedia avendo subito una frattura alla gamba. E' una nuova ondata di maltempo in arrivo nei prossimi giorni. Maltempo in arrivo, lo dice il bollettino diramato dalla Regione Veneto che individua nelle giornate a partire da domani pomeriggio rovesci e temporali anche in pianura. Più precisamente prime ore di mercoledì 14 agosto con rovesci e temporali più probabili sulle zone montane e pedemontane, ma sì anche in pianura, specie nel tardo pomeriggio sera. Saranno possibili locali fenomeni intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e forti rovesci. Visti i fenomeni meteorologici, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emanato un avviso di allerta gialla anche all'Alto e Basso Brenta. Un rocciatore residente in Alta Padovana è rimasto ferito in un brutto incidente mentre stava scalando una vetta sul Civetta. Un rocciatore trentenne di Piombino d'Ese è rimasto ferito in modo grave durante una scalata sul massiccio del Civetta, nel Bellunese. Lo scalatore era in parete con un compagno di cordata sulla nord del Civetta quando è improvvisamente caduto per decine di metri. Non sono chiare le cause dell'incidente avvenuto su una via, la Philippe Flamme, tanto suggestiva quanto impegnativa per le cordate che si avventurano sull'immensa muraglia del Civetta. Subito è stato dato l'allarme ed è scattato il recupero del rocciatore Padovano a opera del soccorso alpino. Il trentenne è stato portato a valle e trasferito immediatamente in ospedale. E all'oreggia con l'ennesima truffa online. L'oreggia viene attirato dal prezzo vantaggioso di una BMW X6 messa in vendita online per 5.800 euro. Un sessantenne si mette in contatto con il venditore, 54 anni, di Castelfranco e i due si accordano sul pagamento. Il sessantenne versa la somma su un conto post-pay, ma dell'auto neanche l'ombra. La vittima del raggiro segnala l'episodio ai carabinieri di Piombino d'Ese che risalgono al 54enne Castellano denunciato per truffa. Invece a Cittadella un giovane al volante della sua auto, ubriaco, completamente ubriaco, ha preso contro mano una rotatoria. Cittadella, ubriaco, in piena notte al volante della sua Opel Corsa imbocca una rotatoria contro mano, ma la manovra viene notata da una pattuglia dei carabinieri che bloccano un 22enne di Campo San Piero e lo sottopongono dal coltest. Il risultato è positivo per un valore oltre tre volte superiore a quello consentito. Per il giovane, patente ritirata e mezzo sequestrato. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo, questa sera alle 21.15, non perdete lo splendido film Vacanze Romane con due grandi stelle, Gregory Peck e Audrey Hepburn. È davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Una buona serata, arrivederci. Porta in tavola la freschezza dei prodotti di Cherubin. Carne salata trentina a 19,90 euro al chilo. Soppresse chilometro zero suini origine Italia, 11,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Nella prima parte della giornata, tempo abbastanza soleggiato, specie in pianura, instabilità in aumento dalle ore centrali a partire dalle zone montane, associata a rovesci o temporali sparsi. Imparziale estensione alla pianura, specie centro-settentrionare. Temperature minime stabili o indiare calo, più sensibile dalla sera sui rilievi. Massime in diminuzione, localmente anche sensibile sui rilievi. Per ogni occasione speciale, stupisci i tuoi ospiti con i nostri rinfreschi. Panini mignono, 80 centesimi. Torte intere, 10,90 euro al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.